Buone notizie per i precari del comune di Favara. Era infatti atteso per ieri il parere della Commissione interministeriale sulla pratica dei precari. Parere che è arrivato. La Commissione ha detto sì alla prologa dei contratti dei 65 lavoratori dell'ente comune di Favara. A darne immediata comunicazione, ancora dagli uffici del Viminale, è stato il deputato locale del PD Tonino Moscat, che in prima persona, insieme all'altro deputato locale, Nino Bosco, aveva seguito con particolare interesse la vicenda. Non è stato semplicissimo, ci dice Moscat, ma grazie alla disponibilità e sensibilità del presidente della Commissione e del relatore, la pratica, come mi avevano promesso, è stata definita il 2 agosto. E malgrado l'assenza del piano della performance, abbiamo ottenuto un sì condizionato e non un rinvio come comunemente ipotizzabile. Sono contento perché ancora una volta vi era in discussione, prosegue Moscat, la vita e il futuro di tanti lavoratori e cittadini favaresi. Ancora una volta abbiamo scongiurato il peggio. Adesso mi auguro che l'amministrazione comunale, conclude, possa, in tempi rapidi, spedire la documentazione mancante, in modo da sciogliere positivamente la condizione. Anche l'onorevole Nino Bosco è intervenuto sulla questione. Come promesso, dopo continui colloqui portati avanti anche di recente, la Commissione del Ministero degli Interni ha deciso per la proroga a favore dei lavoratori precari del Comune di Favara. Promessa mantenuta, dunque. Continueremo a stare vicini ai lavoratori e alle tante famiglie favaresi. Insomma, è tutto bene quel che finisce bene. Possono tirare un sospiro di sollievo questi lavoratori, a cui l'amministrazione comunale aveva già prorogato il contratto con scadenza lo scorso 31 luglio. Grazie a tutti.